Un altro tassello che è stato posto da questa amministrazione nello svolgimento e nel proseguimento di un programma che noi ci eravamo dati fin dal primo momento quando ci siamo insediati nel 2014. Credo che questo fosse un intervento indispensabile per il nostro sistema aviario perché naturalmente non essendo stata asfaltata più da anni le nostre strade qualcuna veramente è in condizioni precarie. Noi come al solito abbiamo progettato, abbiamo programmato, abbiamo investito anche su questa problematica e siamo riusciti nel nostro intendo anche se la richiesta era stata superiore era stata di 4 milioni e mezzo di euro ci sono state finanziate 3 milioni di euro però credo che con 3 milioni di euro sicuramente riusciremo ad intervenire sulle strade principali sono molte strade periferiche che sono ammalorate per il decorso del tempo. Certamente io voglio ringraziare pubblicamente la struttura tecnica perché credo che l'amministrazione comunale abbia raggiunto grandissimi risultati anche e soprattutto al lavoro della struttura tecnica perché credo che essere approvati più una serie di progetti durante questo corso amministrativo è stato molto importante è dato anche segno di una competenza di una professionalità oltre dell'applicazione della parte politica che è stata sempre alla ricerca di finanziamenti che potessero migliorare quelle che sono le condizioni della nostra cittadina. In questo caso si è trattato di un investimento infrastrutturale che ha riguardato le strade e soprattutto ci risolverà quello che è il problema nella nostra zona industriale dove dovremmo apportare il completamento dell'asfalto di tutta quella che è la nostra zona industriale che adesso sta decollando con una serie di persone che hanno già comprato i lotti stanno progettando altri hanno costruito ed altri già esercitano la propria attività. Credo che in brevissimo tempo noi inizieremo questa attività di asfalto delle nostre strade e sicuramente risolveremo un altro problema anche nel centro perché credo che ci sia una strada in particolare la via Matteotti che veramente è in condizioni non idonee non ci sono delle grosse buche però ci sono degli avvallamenti e quindi credo che si troverà a intervenire proprio partendo da quelle che sono le maggiori necessità del nostro territorio. colgo anche l'occasione in questa circostanza di chiedere una collaborazione e anche un po' di pazienza ai nostri cittadini perché nel momento in cui inizieremo ad intervenire qualche disagio nella viabilità ci sarà ma sicuramente il risultato che si raggiungerà sicuramente ripagherà quelli che sono gli sforzi e i sacrifici dei cittadini. grazie a tutti grazie a tutti